Anche per presentare il suo libro in quanto ha vinto a Imola il 23 ottobre di quest'anno con Olena. Quindi un libro che ha toccato soprattutto le corde di quel discorso che abbiamo sempre fatto come associazione Bucaneve perché sia io che la Presidente De Lorenzo abbiamo creato un percorso ad hoc per la violenza sulle donne. Sono anni che ovviamente io sono sociologa ma chi mi accompagna, che lavora nella scuola è quanto sia fondamentale la campagna di sensibilizzazione e di promozione a quella cultura della non violenza. E allora la professoressa Ines, dottoressa Ines Urcioli, ora ci delizierà la voce narrante, la voce recitante per l'esattezza con prime due poesie tratte dal libro Olena. Inafferrabile Inafferrabile melanconia Irrealizzabile desiderio di vederti Di toccarti Mentre mi stupisco di riuscire a vivere senza te Mamma Amore senza confini Inesprimibile dolore Imprigionato nell'intimo mio spirito Dove la ragione lo ha confinato in un eterno esilio senza lacrime Gioia infinita della mia infanzia Cura ed ambascia della tua vecchiezza Ti sogno a volte e mi conforto E mi illudo di averti ancora Mentre l'amaro risveglio mi attende Grazie 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 Grazie